Gentili telespettatori, buona giornata. L'Ocse dice che l'Italia è l'unico paese dell'Ocse dove gli stipendi sono diminuiti. L'unico paese dove i salari diminuiti in termini reali, ma negli ultimi anni le imprese hanno reinvestito solo il 20% degli utili, il resto è andato in dividendi. Forse dovrebbe scattare il diritto agli arretrati. Lavoratori a cui si applicano i contratti collettivi di lavoro del sistema Confindustria, diciamo che in scadenza nel 2025 il 21,7%, ci sono il 10,3%, cioè 597.000 lavoratori che hanno il contratto scaduto da oltre due anni. Landini al posto di andare in piazza rinnovare i contratti no, dobbiamo dire che la Meloni è cattiva ma rinnovare i contratti no. In scadenza entro il 2024 altro 12,6%, 730.000. Scaduti negli ultimi 12 mesi abbiamo il 52,9%, 3,1 milioni di lavoratori. L'Italia è al 42esimo posto come competitività su 67 paesi. L'Italia è ultima per stipendi. a questo punto vi racconto che prima di spiegare il perché di questo, la grande questione dei salari dominò gli anni 70, nel bene o nel male. Si ridussero, anzi meglio, diciamo che consentì al paese di ridurre le disuguaglianze, affermare diritti dei lavoratori in termini generali, lotte sindacali in quegli anni, la cultura del lavoro, la centralità della fabbrica, era un fattore di unità nazionale, la sconfitta in quegli anni dei criminali, eccetera. Però il punto è che oggi l'Italia è l'unico paese dell'Ocse, organizzazione che riunisce le economie industriali, ad aver diminuito in termini reali le retribuzioni. È accaduto cioè esattamente l'opposto di quello che ci si aspettava negli anni 70, nella cosiddetta epoca della conflittualità permanente, solidarietà nazionale, austerità. Quindi siamo arrivati al punto che oggi purtroppo il 53% ha contratti scaduti, il 13% da due anni, si apre una nuova stagione di rinnovi che verranno con un'inflazione modesta. Abbiamo, per esempio, nel pubblico impiego abbiamo avuto negli ultimi tre anni un'inflazione al 17,6% e aumenti contrattuali del 5,8%. Voi direte come? Inflazione al 17,8% e aumenti contrattuali al 5,8%. Vuol dire che gli stipendi hanno perso il 13% sull'inflazione. Ma voi sapete bene che l'inflazione non è una fotografia molto precisa degli aumenti. L'inflazione si calcola prendendo un certo numero di servizi o di cibo. All'esempio, dentro l'inflazione si calcola l'aumento del costo delle mutande, l'aumento dello zucchero, del sale, le tariffe del telefono, si mette l'aumento di una tariffa di un hotel tre stelle. Ci sono un certo numero di beni e servizi che ogni anno si guarda quanto sono saliti o scesi e si calcola l'inflazione. Però l'inflazione non comprende tutto. Se una macchina media negli ultimi anni costa il 40% in più non è dentro l'inflazione. Nell'inflazione si mette magari la macchina più economica, magari che le macchine di livello medio costino quasi il 50% in più, l'inflazione non ne tiene conto. Quindi diciamo che bisogna prendere con le pinze l'inflazione. Si può dire ufficialmente che di solito l'inflazione reale è molto più alta dell'inflazione che viene comunicata. E' molto più alta di solito. Quindi quel 17,8% in effetti è molto più alto e gli stipendi sono saliti del 5,8%. Vuol dire che il sistema del lavoro in Italia non funziona. Non funziona. ci sono dei gravissimi problemi. La classe media italiana sta sprofondando. Infatti si dice che poi utilizzano dei termini tecnici. La quota di valore aggiunto che ha remunerato il lavoro è calata di ben 12 punti tra il 2020 e il 2023. Mentre quella dell'utine netto è aumentato di 14 punti. Cosa vuol dire? Che le aziende guadagnano di più e i dipendenti prendono di meno. Non è che prendono uno stipendio più basso, ma lo stipendio non cresce come cresce il costo della vita e come crescono poi anche gli utili delle aziende. Quindi l'azienda aumenta del 14% e lo stipendio realmente diminuisce del 12%. Quindi così. Lavoratori sempre più poveri e aziende sempre più ricche. E poi non vogliono mettere il salario minimo perché non bisogna toccare l'azienda che produce. c'è guai. Però io credo che invece il salario minimo vada assolutamente fatto. Bene. A questo punto, come vi dicevo, bisognerà trovare una soluzione. Perché il nostro paese non è nella media dei paesi dell'Ocse. È il peggiore. È il peggiore. La classe media italiana. Dai dati, gli italiani, l'italiano medio, non può più neanche comprare la macchinetta nuova. L'automobile piccolina nuova. E allora va sull'usato. Si vende mezzo milione di macchine usate e poco più di 100.000 nuove. Prima era al contrario. Quindi la classe media oggi non è più in grado di potersi comprare una piccola macchina nuova. E quindi non è più classe media. Ma si entra nella sfera delle varie tipologie di povertà. Grazie a tutti e arrivederci a presto.